Il commissario straordinario al Comune di Teramo, Luigi Pizzi, è in procinto di lasciare il suo posto al futuro sindaco della città e, come prassi vuole, fa pubblicare sul sito istituzionale del Comune la sua relazione di fine mandato. Un documento di 31 pagine che racconta la gestione commissariale durante questi ultimi sei mesi. A Pizzi erano stati conferiti i poteri del sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale dopo la sfiducia all'allora primo cittadino Maurizio Brucchi. Dalla lunga analisi di entrate e uscite si evince che il commissario prefettizio lascerebbe i conti del Comune di Teramo meglio di quelli che aveva trovato. All'inizio del suo mandato, il 7 dicembre 2017, il fondo di cassa era pari a zero. L'anticipazione di cassa, cioè i debiti del Comune, ammontavano a 11.708.000 euro. Oggi la cifra è più che dimezzata ed è di 5.342.000 euro. Luigi Pizzi non ha solo risanato in parte i conti rosso dell'ente, ma ha anche indicato nuovi percorsi per affrontare e risolvere alcune questioni spinose, come l'affidamento dei parcheggi, la teramo ambiente e gli impianti sportivi. Intanto la via maestra indicata dal commissario è stata quella dei bandi e delle gare e non più quella delle proroga infinite e forse illegittime. In particolare sull'uso e la gestione degli impianti comunali, Pizzi ha operato una netta spending review a valere sul bilancio comunale, ridefinendo gli obblighi dei concessionari. Ha anche aderito alla normativa che prevedeva la riapertura dei termini per il pagamento agevolato dei tributi comunali, una sorta di rottamazione delle cartelle che dovrebbe far entrare nelle casse del Comune di Teramo circa 200.000 euro. Anche l'incidenza del costo del personale sulle spese correnti è diminuita, passando dal 21,41% del 2017 al 16,16% del 2018. Al termine della relazione di Pizzi un dato salta gli occhi. Nell'ultimo anno gli abitanti del Comune di Teramo non sono affatto diminuiti, come spesso si afferma, ma aumentati anche se di poco, passando da 54.405 nel 2017 a 54.427 nel 2018. Una buona gestione dunque, stando a quello che scrive il commissario prefettizio che si concluderà con il ballottaggio del 24 giugno. Allora si aprirà un'altra storia per Teramo e sarà il nuovo sindaco a decidere strade e percorsi per amministrare, risanare e ricostruire la città.